Conclusione, il ciclo di incontri, testimoni del presente. Così, sì, con l'incontro del 16, di venerdì 16, a 21, qui nell'aulamagna del Cioio Economico e Sociale Rosmini, concludiamoci questo ciclo, è il sesto degli incontri, abbiamo sempre trattato temi di grande attualità, stiamo sempre su un pezzo caldo. Parleremo di criptovalute, bitcoin, ma non tanto per l'interesse specifico di questa particolare moneta, quanto per il mondo e il linguaggio che questa moneta rappresenta, e soprattutto per le opportunità rivolte ai giovani che questa moneta rappresenterà. Dietro questa moneta c'è tutta una possibilità di internazionalizzazione, di globalizzazione, di negoziazione e transazioni in termini proprio mondiali. E io sono convinto che una scuola non possa, con la curiosità che deve animare, che si occupa di educazione, non guardare avanti, non cercare in qualche modo di dare delle prospettive e delle opportunità in più ai nostri ragazzi. Questo mondo consente, in una logica appunto peer-to-peer, cioè da persona a persona, evitando filtri e intermediazioni, di fare negoziare i nostri ragazzi con altri ragazzi, o comunque noi stessi, con altre persone, saltando in qualche modo i vincoli delle monete locali, i vincoli delle crisi geopolitiche che spesso attanagliano le regioni, le politiche magari di inflattive o di svalutazione, per cui aprendo davvero una porta al futuro, soprattutto per il linguaggio, che è un linguaggio matematico, algoritmico, che interessa molto i ragazzi, dunque anche noi che li accompagniamo nella loro avventura educativa. Grazie.